Quando io parlo saltano fuori sempre delle guerre, assolutamente, ma io me ne frego allegramente, me ne frego allegramente perché io devo rispondere soltanto alla cosa più importante che ho, alla mia coscienza. Allora se devo dire qualcosa, la dico anche con toni abbastanza beceri, perché? Perché visto ormai che parlando civilmente nessuno ti ascolta, almeno forse facendo il caffone qualcuno starà ad ascoltarmi. Il concetto è molto semplice, l'ipocrisia dilagante che c'è in giro, che tutti pensano e nessuno ha il collarraggio di parlarne. La stessa cosa che vale per il vino, omologati anche nel fattore ovviamente ideologico. Non ho parlato di politico, di sinistra o di destra, ho detto ideologia nel senso di capire le idee che stanno uscendo o di riprendere certe idee e di fare un'analisi obiettiva. Io non sono il detentore della verità, però quando trovo qualcuno che mi vuole imporre ciò che è buono e ciò che è bello e ciò che è giusto, non mi sta bene, valuto da solo ciò che è buono. Questa si chiama libertà. Se non abbiamo una libertà intellettuale, e ci ricolleghiamo al discorso di prima, saremo costretti a bere tutti lo stesso vino, a mangiare tutti lo stesso formaggio della stessa ditta megaproduttore e lasceremo quel povero pastore che ancora fa il formaggio con il latte a dondolarsi perché tanto è un povero cretino che vive là. Non è un povero cretino, è uno che ha capito ancora che forse anche quel formaggio può dire, può parlare delle stesse storie che può parlare una vita e del vino che dà. È tutto lì, non è che lo fa, forse siamo gli ultimi idealisti, ma moriremo di fame. Può darsi, ma fin tanto che sono vivo io continuo a dire ciò che penso con la libertà, perché sono un uomo libero e la mia libertà non la scambio con niente e con nulla.